Sai qual è la caratteristica peculiare che differenzia gli shampoo trattanti da pura da tutti gli altri che sono in commercio? Vediamolo insieme! Il punto di forza degli shampoo trattanti da pura sono due fondamentalmente. La formula estremamente liquida e la erogazione diretta in cute. La formula liquida permette alle sostanze naturali e gli oli essenziali contenuti e alle sostanze detergenti o sia intensiattive alla parte lavante dello shampoo di andare direttamente in cute nella zona in cui deve agire uno shampoo senza quindi sprecare il prodotto. La diretta applicazione in cute poi è fondamentale per poter far sì che le sostanze naturali, i principiattivi e gli oli essenziali naturali contenuti vanno proprio ad agire con un tempo di posa breve andando quindi ad avere un effetto potenziato rispetto a un classico shampoo. Ma come fare a riuscire a inserire queste due caratteristiche in uno shampoo? Tramite una specialità di natura, ossia il tempo twist open. Il tempo twist open appunto permette l'erogazione diretta in cute massimizzando tutti i principiattivi contenuti nella formula per un risultato quindi ancora più soddisfacente sia dal lato della pulizia della cute che dal lato dei risultati dei principiattivi. Quindi clicchiamo lo shampoo trattante direttamente in cute sezionando il cuoio capelluto, facciamo un breve massaggio e poi procediamo con il lavaggio. Tu lo conosci già lo shampoo trattante da pure? L'hai già provato? Scrivici nei commenti quello che pensi se ti piace questa applicazione. E alla prossima!